like nastia gelati, torte, comprate, comprate ciao cosa vuoi? gelato o torta? cos'è quello? dov'è? cattivo zuccherofilato? dov'è? comprati comprati vuoi lo zucchero filato? dammelo ne adesso basta chiamerò la polizia pronto polizia arrestateli salve intervengo che cosa è successo? mi hanno rapinato forza andiamo a cercarli non muoverti ok preso in prigione cinque minuti prendiamo l'altro si ok 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 dovrai stare qui per cinque minuti ok sei invitato alla gelateria ok ok è per te e questo per me ok 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 ti penso io ok 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 grazie grazie ciao 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 chi vuole una mela? oh no cos'è questo qui? è un verme e? ah ik ciao cos'è questo? Vestiti! Sì, vestiti! Grazie, ciao! Oh, che bei vestiti! Bellissimi, provali! Terribile, terribile! Che incubo! È brutto! Questo andrà bene! Com'è? Un incubo terribile! Oh no! È brutto! Oh no! Ma è un incubo! È strappato! Sì! Vieni, farò vedere! A casa mi servono dei vestiti strappati! Cos'è questo? Che bello! Ecco una scatola di gioielli! Ecco voi! Grazie! Oh, che bello! Che bello, Nastia! Date un'occhiata, ragazze! Abbi! Abbi! E i soldi? Come ti permetto? Ehi, come che soldi! Ecco qua! Questo! Oh! Ah! La scatola! Ah! 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 Grazie a tutti.